Unanimità di intenti in Consiglio Comunale anche per la vicenda legata alla Rincicotti Orciani, dove il sindaco Massimo Seri, nel rispondere all'interrogazione presentata dal consigliere di Progetto Fanno Alberto Santorelli, a cui hanno fatto seguito anche due interrogazioni orali del Movimento 5 Stelle e di Noi Città, ha spiegato che è stata avviata una verifica normativa per valutare la possibilità di recupero dell'azienda e dei lavoratori, Come affermato poi dal Presidente Renato Claudio Minardi, da parte dell'amministrazione comunale c'è tutto l'impegno e la determinazione nel trovare una soluzione che possa essere in grado di coinvolgere anche altri comuni del comprensorio, affinché affidino i servizi all'azienda per poter così recuperare il fatturato. La proposta è stata respinta dalla maggioranza perché i consiglieri comunali hanno tutte le possibilità e tutti gli strumenti per poter verificare con l'accesso agli atti ogni atto, ogni documento, ogni delibera, ogni determinazione che è stata adottata o fatta da parte sia della Giunta che del Consiglio che anche da parte dei dirigenti del Comune di Fanno. La discussione si è accesa poi sulla richiesta avanzata dai grillini di istituire una commissione speciale di indagine che valuti le questioni legate alla ditta profiglass e all'intera zona di Bellocchi in cui essa opera. Richiesta che ha trovato subito contrari il Partito Democratico, noi città e noi giovani. Sinistra Unita invece si è assenuto. Il sindaco Seri che è intervenuto per ristabilire ordine tra le file dei consiglieri ha detto che richiedere una commissione di inchiesta sta a significare un clima di sospetto che il primo cittadino respinge. Il tema ambientale che viene posto anche da parte dei comitati e dei residenti su quello massimo rigore perché sull'ambiente non si scherza, la salute è un bene di tutti e ovviamente tutti vogliamo che la salute venga tutelata nel migliore dei modi. Per cui massima trasparenza ma la commissione di indagine sinceramente l'abbiamo vista come una cosa assolutamente fuori luogo. Non d'accordo con l'atteggiamento tenuto dai consiglieri e con la decisione di respingere la richiesta della commissione hanno deciso di abbandonare l'aula e il movimento a 5 stelle, Dan e i consiglieri di progetto Fano.